Ben ritrovati con l'informazione, apriamo il nostro telegiornale con la cronaca giudiziaria. La Guardia di Finanza di Padova ha sequestrato titoli e ancora denaro, numerosi immobili per un valore complessivo di 2 milioni e 400 mila euro nei confronti di un dentista. L'aduzione dell'importante misura cautelare per il professionista è intervenuta a seguito dell'esecuzione di complesse indagini svolte dalla Guardia di Finanza di Cittadella e coordinate dalla Procura della Repubblica di Padova durate oltre un anno che hanno consentito di accertare come il professionista non abbia dichiarato negli anni 2010-2014 compensi per oltre 6 milioni e mezzo di euro in nero, di cui corrisponde un'IRPEF non versata al fisco pari a circa 2 milioni di euro. Singolare il metodo usato per nascondere il nero, una vera e propria stanza segreta occultata dietro un armadio all'interno della quale era custodita la documentazione relativa ai pagamenti ricevuti dai pazienti e alle omesse fatturazioni, ma non solo, anche due distinte contabilità, una ufficiale, l'altra parallela protette da password, sistemi che però non sono bastati a fermare le fiamme gialle della Guardia di Finanza di Padova. E nei giorni scorsi i finanzieri della tenenza di Schio hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente emesso dal giudice per indagini preliminari presso il Tribunale di Vicenza sottoponendo a sequestro conti finanziari e partecipazioni societarie per un valore di 80 mila euro e anche un'autovettura. L'incisivo provvedimento è stato emesso nell'ambito di una indagine scaturita dagli esiti di una verifica fiscale condotta dalle fiamme gialle scledense nei confronti di una società di capitali dell'Alto Vicentino operante nel settore metalmeccanico. I capi della rivolta di Kona sono stati identificati o almeno i primi di loro. Dopo una settimana di indagini serrate la Digos della Questura di Venezia ha denunciato 5 migranti del centro di prima accoglienza di Kona che sono stati iscritti ora nel registro degli indagati per violenza privata dal procuratore aggiunto Adelchi Di Polito e dal pubblico ministero Lucia D'Alessandro. I 5 sono accusati per le proteste della scorsa settimana scatenatesi dopo la morte naturale a causa di un malore secondo l'autopsia della 25enne ivoriana Sandrin Bacaiocco. Per il momento non è stato invece contestato come si era ipotizzato in un primo momento per il reato di sequestro di persona. I vigili del fuoco di Venezia sono intervenuti per il principio d'incendio di un aspiratore di un locale adibito a stirreria guardaroba all'interno dell'area ospedaliera del Fatte Bene Fratelli di Canareggio a Venezia. I pompieri sono arrivati con un'autopompa a serbatoio e hanno subito individuato l'origine del problema usando poi l'estintore sull'aspiratore che ha prodotto notevole fumo. Il locale staccato dai reparti di cura è stato ventilato e quindi messo nuovamente in sicurezza. Torniamo alla cronaca è stato portato in carcere con l'accusa di tentato omicidio aggravato Antonio Diviso 64 anni di Vicenza che alle prime ore del 4 gennaio scorso avrebbe accoltellato la moglie in casa mandandola all'ospedale con tre profonde ferite all'addome una delle quali ha provocato anche una emoragia interna che ha reso necessario l'intervento chirurgico. L'uomo trasferito fin da subito nel reparto di psichiatria dell'ospedale di Vicenza aveva raccontato alla polizia di aver tentato il suicidio e di aver ferito in modo accidentale la moglie che era intervenuta per evitare l'insano gesto. Ma la versione del funzionario delle poste che ora si trova esodato non ha trovato alcun riscontro da parte degli investigatori della squadra mobile tanto che la procura ha chiesto e ottenuto dal GIP un'ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita ieri. E sempre ieri sera intorno alle 22.30 in località Mezzavia a Due Carrare lungo la statale 16 la strada era scivolosa e tre auto si sono scontrate violentamente provocando un morto e tre feriti. I vigili del fuoco di Abano Terme hanno messo in sicurezza i mezzi mentre il personale del suo M118 ha tentato in vano di rianimare il conducente della Mini Cooper purtroppo senza esito. La vittima è Giuseppe Benella, 26 anni, residente in via stazione ad este. Il giovane è stato sbalzato all'esterno dell'abitacolo ed è deceduto praticamente sul colpo. Fuori dalle vetture anche i feriti delle altre due auto distanti oltre 100 metri tra di loro trasportati all'ospedale a Padova dalle ambulanze. I vigili del fuoco sono intervenuti sempre questa notte alle 3.15 lungo la regionale 53 in territorio Cittadella per un auto articolato messosi di traverso lungo la careggiata dopo aver perso il controllo a causa del fondo stradale reso scivoloso dalla neve. I pompieri del locale di staccamento hanno messo in sicurezza il camion tamponando la fuoriuscita di gasolio rottosi durante l'incidente. L'operazione di soccorso è durata due ore. E ieri pomeriggio fino a tarda serata una quindicina di volontari della protezione civile di Padova hanno cospasso sale nell'area pedonale centrale dove i mezzi motorizzati faticano ad arrivare. In modo particolare sui marciapiedi, sui prateatici rialzati e nei portici. Un lavoro di volontariato che è stato molto apprezzato dal commissario prefettizio della città euganea Michele Penta che ha avuto anche occasione di vederli all'opera e di ringraziarli personalmente. E parliamo di influenza. L'incidenza dell'influenza in Veneto ha raggiunto 61,8 casi per 10.000 assistiti per un totale di 109.200 persone già colpite, 30.739 delle quali nella settimana tra il 2 e l'8 gennaio scorso. Si registrano purtroppo i primi tre decessi, tutti verificatisi in pazienti con patologie pregresse di età compresa tra i 46 e i 77 anni. Ieri pomeriggio in Galleria Tito Livio nel cuore di Padova le volanti hanno effettuato un controllo al fly bar per la presenza di persone sospette sedute dentro e fuori dal locale. Gli agenti hanno identificato 5 albanesi ed un tunisino. Quest'ultimo di 40 anni è risultato gravato da un ordine di carcerazione che gli ha spiccato nel novembre del 2016 per violazione di domicilio per fatti risalenti al 2009. Per questo è stato arrestato e quindi portato in carcere. Uno degli albanesi di 19 anni è risultato invece inottemperante all'obbligo di dimora a Selvazzano Dentro, misura disposta nel giugno del 2016 dal Tribunale di Padova. Gli altri identificati avevano tutti i precedenti per reati contro il patrimonio ma sono stati soltanto foto segnalati. Degrado attorno al palaghiaccio di via Geremia a Padova sommerso oramai dai rifiuti. La denuncia arriva dal comitato ambientalista Anima Critica. La situazione è davvero paradossale, denunciano gli ambientalisti. La situazione è vede all'interno del fossato che delimita la struttura del plebiscito. Si sono accumulati rifiuti di vario genere, dalle cartacce ai pacchetti vuoti di sigarette, dai barattoli schiacciati a plastiche varie, dai sacchetti a scarti di ogni tipo. Siamo in zona Ponte Vigo d'Arzere dove c'è anche il parcheggio degli impianti sportivi plebiscito. All'interno del parcheggio la situazione si allarga in maniera vistosa in tutta l'area dando una sensazione di degrado e abbandono, anche in un luogo frequentato da migliaia di cittadini padovani con al seguito molti bambini che vi si regolano proprio per fare sport. Traffico e code. Nella tarda mattinata di oggi in A13 a causa di un incidente avvenuto in direzione Padova tra le Terme Ugane e il Bivio A13 di Ramazione Padova Sud dopo la stazione di servizio San Pelagio. Per cause al vaglio della polizia stradale un mezzo ha perso il controllo finendo per schiantarsi contro il New Jersey e in parte addirittura scalvalcandolo e occupando parte della careggiata opposta. Nessun ferito per fortuna e nessun altro veicolo coinvolto. Questa mattina invece si è presentato a Padova l'esoscheletro, un passo che fa la differenza. La rappresentazione esclusiva per il Veneto è stata tenuta con il seguito anche delle nostre telecamere presso l'auditorium Pontello del centro Civitas Vite di via Toblino a Padova. Un passo che fa la differenza, dicevamo, per questo esoscheletro. Questa è la missione della veneristica protesi bionica che consente a chi ha perso l'uso delle gambe di rimettersi in piedi e tornare a camminare. Relatori di questo appuntamento, il dottor Paolo Boldrini, direttore del Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitativa dell'Ulss 9 di Treviso, il dottor Pierluigi Castiglione, direttore della Medicina Fisica NIREM dell'ospedale riabilitativo di Mezzaselva di Roana in provincia di Vicenza, il dottor Guido Grigual, presidente salute per il Veneto. Sono intervenuti inoltre il dottor Massimo Pulin, presidente dell'ICORA e il professor Giorgio Rizzato, docente di Psicologia e Medicina Legale della Università di Padova, nonché direttore scientifico del NIREM, l'ospedale di Mezzaselva in provincia di Vicenza. E ancora ricordiamo che ha diretto il dirigente medico fisiatra Acqui di Verona, coordinatore scientifico ICORA. Bene, chiudiamo qui la nostra pagina di informazione, vi diamo appuntamento come sempre alle prossime edizioni e vi auguro ovviamente buona visione. Grazie.